elisa talentino è una giovane artista che vive tra il piemonte e valencia in spagna le opere proposte per microspace competition trattano il tema delle sirene e dei mostri d'acqua temi simbolici carichi di richiami dalla simbologia omerica che disegna le sirene da un lato come dispensatrici di conoscenza ma dall'altro come pericolose per l'uomo fino alla simbologia cristiana che introduce lo spettro della donna seduttrice lussuriosa e perfida queste sirene sono però molto particolari poiché rispetto all'iconografia cui siamo abituati sono invertite le parti gambe di donna e testa di pesce queste nuove sirene sembrano richiamare un nuovo canone di bellezza e non a caso le gambe sono seducenti da modella e confermare la propria pericolosità i mostri marini proposti da elisa talentino hanno grande capacità di dialogo poiché si trovano a proprio agio nel mare tra gli uomini tra le pagine di giornali e libri e soprattutto all'interno di uno spazio onirico che non ha confini